Il problema mi pare che sia in questo momento il fatto che è Forza Italia che non vi perdona lo strappo con Angelino Alfano perché Maroni dice che una coalizione programmatica si può fare a Milano con l'NCD. Il problema mi sembra molto semplice, se come sempre è stato per la nostra coalizione, i moderati, i liberali, il centrodestra ricordo che la forza di Berlusconi nel 1994 fu quello, si vuole ritornare a rappresentare e interpretare i cittadini che vogliono cambiare, che vogliono riappropriarsi della propria città o meno. Se stiamo dalla parte dei cittadini e rimettiamo la politica a servizio dei cittadini, superiamo tutte le divisioni. Se no rifacciamo il teatrino della vecchia politica che ricordo non ci apparteneva. Tu a Roma sei con lui, a Milano stai con quell'altro, eccetera. In questo modo non si va da nessuna parte. Io credo che bisogna, ognuno può dare il proprio contributo, Milano può essere sul modello Lombardia a un laboratorio, se questo sarà possibile bene, altrimenti ognuno tirerà le proprie conseguenze e andrà per la propria strada. L'unico risultato sarà quello di presentarsi i divisi e quindi poi, secondo me, di perdere una grande opportunità per Milano e per l'intero paese. Un candidato come Sala attira l'elettorato NCD? Un candidato come Sala attira, e noi dovremmo ovviamente riflettere su questo, non attira l'NCD. Attira, dipenderà da come si presenterà, e se lo faranno presentare, certamente attira l'elettorato moderato, nel senso che è evidente che non gli si potrà accusare di essere uno di sinistra, un comunista, eccetera. Quindi, qualora fosse un candidato, certamente un candidato autorevole, a cui credo ognuno di noi debba avere la responsabilità di verificare cosa e come fare proposte alternative. Ma non sarebbe lei esattamente l'uomo giusto da contrapporre a Sala, che non ha l'esperienza politica, quella amministrativa, ma non quella politica che invece ha un uomo di lungo corso come lei, soprattutto su Milano? Ma io l'ho sempre detto che, come ho visto, vuole fare Salvini. Io non sono interessato alla candidatura a sindaco di Milano, perché ritengo che sia necessario in questo momento fare un passo indietro per cercare di rimetterci tutti insieme. E quindi credo che questa sia assolutamente la strada. Il tema del candidato è, come sempre così, un tema che arriva dopo, non prima. Prima bisogna, oggi c'è stato un buon contributo, bisogna capire se abbiamo una comune visione della città e quali sono le nostre proposte. Così si fa normalmente. Si vota il 12 giugno, il tempo c'è. Mi sembra che ogni tanto noi siamo troppo tifosi e poco invece ritorniamo a quello che la politica deve essere, che i milanesi ci hanno detto. D'altra parte c'è una lontananza dalla politica dei cittadini enorme. Primaria sì oppure no? Mi sembra che sia rilevante in questo momento.